Per quanto il nuovo contratto dei lavoratori delle cooperative sociali in vigore dal primo febbraio abbia migliorato sensibilmente le retribuzioni senza un attempestivo adeguamento dei contratti, le cooperative della regione andranno in seria difficoltà. Visto lo scenario che si va delineando, le organizzazioni sindacali e le associazioni cooperative lanciano un appello alle istituzioni per chiedere interventi rapidi e concreti. Le organizzazioni e le cooperative sociali vanno incontro ad un aumento dei costi del personale molto elevato che ha necessità di un'interlocuzione fattiva con gli enti pubblici. Noi gestiamo servizi sostanzialmente di educativa, assistenza domiciliare, strutture per anziani, per disabili e in questi servizi il costo del personale ha un peso molto elevato. È importante quindi che andiamo ad una revisione delle rette di questi servizi ed anche ad una revisione dei prezzi all'interno dei contratti in essere. Fondamentale in questo momento assicurare un'effettiva sostenibilità economica. La crisi in corso potrebbe far avvenire meno quelle risorse necessarie per garantire i livelli di sicurezza dei lavoratori e dei destinatari degli interventi, il che vorrebbe dire causare un forte abbassamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini mettendone addirittura a rischio l'erogazione. Il mancato regolamento delle tariffe rischia di far sì che questo sia un contratto e diventi un contratto a porte girevoli dove ad oggi le cooperative fra mille sforzi hanno riconosciuto l'aumento del contratto nazionale di lavoro e domani qualora non vengono a riguardo le tariffe le richiedono indietro attraverso le forme previste dalla legge tipo ricapitalizzazione di imprese o quattro crisi. Noi questo vogliamo assolutamente evitarlo, pretendiamo dalla politica e dai coloro che hanno il potere decisionale di adeguare le tariffe che le adeguino perché il contratto nazionale di lavoro noi lo pretendiamo e per noi è irrinunciabile.